Il Juventus che ha vinto la scorsa edizione del trofeo, battendo in finale il Verona, ma il Juventus che ha vinto anche nel 2014, battendo in finale l'altra squadra di Verona, il Chievo. Garza Rosso ancora, controllo del pallone del numero 7 della Juventus. Bianco entra in aria bianco, metà a centro, c'è il gol, il radoppio della Juventus con Mastro Pierro. Juventus 2, Milan 0 al 19esimo minuto, Mastro Pierro. Disattenzione di ancora della difesa, posizionati male, va sul fondo, veramente molto bravo, Garza Rosso che mette un pallone proprio a pochi metri dalla porta. Il cambio tra Garza Rosso e Bianco, il traversone di Bianco al centro, nessun problema per Mastro Pierro. Rivediamo l'azione grazie a Gian Paolo Stavone. Eh sì, eh sì. Ecco Bianco che mette al centro un pallone invitante, nessun problema per Mastro Pierro, che con il sinistro deposita in rete. Posizionati male, vediamo i direttori in ritardo, addirittura qualcuno si è fermato. Juventus 2, Milan 0. Lo ricordi Mancini all'ottavo minuto, il raddoppio di Federico Mastro Pierro al 19esimo. Grazie.